Ciao, presentati. Ciao, mi chiamo Federico, ho 17 anni e vengo dall'Istituto Tecnico Agrario di Sardegaribaldi e sono qua nel progetto Vivere il Digitale. E' un progetto dove spiega della sicurezza per i nostri demo, per i nostri computer, quando facciamo acquisti digitali. E sinceramente sono rimasto stupito perché non mi aspettavo che ci fossero così tanti metodi per essere aggerati, per comunque perdere soldi e anche dare un'altra fiducia ai siti che ci dicono di acquistare dei prodotti, non siamo ben sicuri di quello che stiamo facendo. Cosa eviterai di fare da adesso in poi? Cosa hai capito in più? Sicuramente sarò attento dai personali a siti che concorre, non sono sicuro che sono veri e sicuramente controllerò bene ciò che cosa comprerò perché non si sa mai appunto dalla gente che sta da l'altra parte dello schermo che progetti hanno con i soldi che puoi fare e appunto sarò più attento con i miei soldi. Senti ma hai fatto anche il test sulla sicurezza della tua password? Sì. Com'è il risultato questo test? Per noi nessuno ancora cerca di aggerarmi quindi sono stato tranquillo, non ho fatto da anni. Era abbastanza sicura la tua password? Sì sì sì. Ok grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.